Apriamo il video, signori, con delle novità che riguardano, come avrete anche letto dal titolo, Paolo Bonolis. In pratica c'è stata la decisione da parte di Mediaset, che ormai è anche sicura, indietro, raga, non si torna, cioè proprio così. E allora il pubblico probabilmente si aspettava un'altra notizia, ma dovrà accettare necessariamente questa presa di posizione dall'emittente presieduta da Pier Silvio Berlusconi, che sapete che è all'apice di tutto e quello che decide lui è storia. Ormai siamo già nel mese di agosto e anche il Biscione sta già guardando oltre l'estate, quando ricomincerà tutta la varia programmazione autunnale che si spera possa ottenere ottimi risultati in termini di audience, che a loro interessa in pratica solo quello, ecco. Ma prima di darvi le informazioni su Paolo e sulla decisione, quindi di Mediaset, nei giorni scorsi il nome del conduttore televisivo è venuto a galla per un suo cambio look. Sì, perché lui ha mostrato per la prima volta a tutti il suo nuovo look stravolto. Presenti infatti dei baffi insoliti che hanno scatenato la reazione dei suoi seguaci su Instagram, infatti c'è chi ha commentato e ha detto no, il baffo proprio no, mentre altri hanno aggiunto, oddio ma chi è? Zorro? Ah, l'ho pensato anch'io! Con sto baffetto me parier nonno di Luca Laurenti! Ma tanti altri hanno invece posto l'accento sulla genuinità della sua immagine con Silvia Bonolis. E allora Paolo dovrà ovviamente dire di sì alla decisione di Mediaset, perché si sa che non può fare altrimenti, insomma, non è che comanda lui, e anche perché non si tratta ovviamente di una scelta punitiva nei suoi confronti. Con la fine della stagione estiva ripartiranno altri programmi e avanti un altro dovrà fermarsi. Al suo posto è stato già scelto un collega molto famoso, molto apprezzato dal pubblico, il quale da una parte sarà deluso perché non vedrà Bonolis per un po' di tempo, ma dall'altra sarà felice perché ritornerà un altro amato presentatore. Insomma, raga, ve lo dico. Dal 29 di agosto, quindi verso fine mese, nello specifico da settembre in poi Paolo Bonolis sarà sostituito da Gerry Scotti, quindi lo vedremo nei primi giorni, cioè negli ultimi giorni di agosto, ma poi da settembre in poi sarà effettivamente così. Avanti un altro, in replica, sarà interrotto e si ricomincerà con Caduta Libera. Per rivedere all'opera il marito di Sonia Bruganelli occorrerà attendere gennaio 2023, quando saranno trasmesse le nuove puntate, e inoltre il sito Blasting News, che qualcosa ne sa, ha anche rivelato un altro dettaglio molto interessante. In prima serata Bonolis sarà protagonista in futuro anche con lo storico programma Ciao Darwin. E allora, parlando della vita privata, visto che ci siamo, di Paolo Bonolis, lui e Sonia Bruganelli proseguono le loro vacanze e le foto pubblicate dal settimanale vero fanno chiaramente intendere che la coppia è più unita e che mai. Ci sono baci, ci sono abbracci, tenerezze, tutto a testimonianza che la loro storia va avanti a gonfie vele, e inoltre, alla domanda di un fan su quanto fossero ancora una coppia lei e Paolo, Sonia ha risposto che lo saranno per sempre, e noi ci auguriamo che sarà veramente così. Nel frattempo, questo è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!